Buonasera signori, qua è il Coissaro e siamo in un bel video serale di World of Warship Mi è tornata un po' la voglia di giocarci ed è il momento di nerdare come le merde E fino alla conquista della Poderosa Adesso mettiamola bene in impressione che così facciamo la super roba Alla caccia della Yamato, la nave da guerra più grande mai costruita L'avremo un giorno, tanto tanto più in là Ma intanto cominciamo a nerdare Siamo qua, dobbiamo arrivare a 20.000 di ship xp E niente Cerchiamo una partita Ok, eccoci qua Allora Beh, immagino che non ci sia molto da spiegare riguardo a questo gioco È un gioco di guerriglia, navale naturalmente Beh, neanche a dirlo E semplicemente ci sono diverse modalità Molto spesso c'è questa qui C'è principalmente questa qui Ci sono sempre delle zone da conquistare, da tenere Però diciamo che in queste modalità, appunto, come diceva su Per vincere bisogna o distruggere tutti gli avversari Oppure conquistare la base nemica Appena si fa una di queste due cose si vince automaticamente Invece in altre modalità, per esempio, ci sono tre basi da conquistare E semplicemente ti danno dei punti Il primo che arriva a mille vince Ma non è questo il nostro caso Allora, noi ora siamo una corazzata Ci sono tre classi in questo gioco I destroyer, che sono loro Sono navi piccole Sono poco resistenti Hanno poca vita Fanno poco danno Ma possono lanciare siluri Molto frequentemente Seconda classe Il cruiser Il cruiser è un incrocio Fra la corazzata E il destroyer È meno resistente di una corazzata Ma Più resistente di un destroyer In più È capace di usare i siluri come i destroyer Cosa che le corazzate come me Come la mia nave Non possono fare Hanno una buona gittata Hanno un gittata media E hanno un buon danno Adesso parliamo delle corazzate La corazzata è la nave che sto utilizzando io In questo momento Ha un'alta resistenza Ha un alto danno Però ha un altissimo tempo di ricarica Effettivamente è cosa che mi sono dimenticato di dire I destroyer hanno Poca Hanno Una Ricarica molto rapida Anche i cruiser ce l'hanno Ma un pochettino più lente Invece le corazzate Ce l'hanno proprio Proprio pesante Adesso ogni nave Se ha con un potenziamento Per un o con un altro Possono avere dei perk Che sono questi che vedete in basso A destra Quelli che si usano con le lettere Non con 1 e 2 1 e 2 sono semplicemente Per impostare i proiettili Ora ho impostato i proiettili esplosivi Che effettivamente Non sono quelli che dovrei usare Dovrei cominciare sempre con quelli penetranti Che sono i 2 Premendo 2 Infatti adesso è diventato arancione Significa che appena sparerò il primo colpo Tutte le canne Tutte le canne dei cannoni Si ricaricheranno con il colpo Con i proiettili selezionati Comunque i perk sono questi Le corazzate hanno Beh R Sta per le riparazioni Nel caso la nave vada a fuoco Oppure Imbarchi acqua Serve per riparare T Invece rappresenta la cura E' una priorità Delle corazzate Semplicemente Se prendi dei danni Con T Tu ti puoi curare Nel tempo Per un certo lasso di tempo Di tot Di tot vita Y invece Un perk Che ho acquisito da poco Potenziando La nave Mi permette di Moltiplicare La L'agitata massima Di 1,5 Se non sbaglio Cioè almeno questi Sono i calcoli Che ho fatto io Adesso vediamo di colpire Quello stronzetto Ehm Accidenti Quasi 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 Dovete capire Comunque ci gioco Da una settimana Non più Sto ancora imparando bene A calcolare Le distanze Tutto Ma Prima o poi Ce la faremo Diventeremo Bravissimi giocatori E otterremo La chiamata Mai nella vita Quali sono Stiluri Alleati E forse Quel destroyer Fa una brutta fine Non so Quam è l'audio Io in teoria Ho abbassato i decibel Del Del gioco Quindi Teoricamente Dovreste sentire Anche Molto La mia voce Cioè Comunque Con un Con un volume Normale Ma il gioco Dovreste sentirlo Pochettino Sinceramente Però Vedo che la mia voce È molto più alta Quindi Eh no Vabbè Facciamo che Per questa partita Non so Come sentirete L'audio Ma vabbè Bene Ah Ecco un'altra Corazzata Bene Diciamo Che è partito Un duello A meno che Dietro quella Corazzata Non ci siano Altre navi È partito Un bel duello Vediamo un po' Com' andrà Velocità massima È il momento Di affrontarci Sappiate Il co Oh no 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 Ma che affrontarci Sono in due Fermo Però non c'è Un destroyer qua Devo passare Qua in mezzo Devo scappare Potrei anche provare A combattere Però ecco appunto Vedete Vado a fuoco Premo R E Mi riparo Sta cominciando a girare Perciò Ho dovuto cambiare Leggermente mira Cioè Diciamo Coordinate di tiro Vedete Quella parte Grigia Che c'era Nella resistenza Della nave Sta a significare La vita che posso Curare Adesso Io devo per forza Passare di qua È l'unico modo Che ho per salvarmi Ed è Quello più pericoloso Perché ho visto Che c'è un destroyer Là in mezzo Nemico Si rilancia dei siluri Sono finito I siluri Hanno un alto Potenziale di danno Forse Forse lo prenderò L'ho preso Con quattro colpi Wow L'ho ridotto Malino Ma non troppo Intanto Siamo sfuggiti Al pericolo Ah però Sono quattro Di là E loro sono In otto Allora sapete cosa faccio Io me la rischio E vado dritto Nella loro base Tanto Di portaerei Non ce ne sono Quindi sono anche Abbastanza sicuro L'unica cosa di cui Mi devo preoccupare È quello Se comincio A bersagliarmi Sono finito E infatti Quello che farò È non sparare Per ora Guarderò come va La situazione Oh Mi faccio vedere Ma si dai Proviamo a rubare La kill Da bastardi E niente Vediamo un po' Come va Ehm No Si è fermato Appena in tempo E comunque L'avrei mancato Ok Dobbiamo stare attenti Comunque Sono rimasti in due Alla base principale Di nemici Intendo Mamma mia Che scarso E ora Devo stare attento A quel Destroyer A 10 km Siluri arrivano Purtroppo Bene Adesso sì Che possiamo fare Un duello Con questa Nave Meglio se non Cambio Rota Sapete Eh Mi ha fatto male Però se cambio Rotta Perdo Se cambio Rotta Perdo Il Le Cannoni No Perché si devono Appena ruotare Quelli Quelli sul retro Non è molto Vantaggio Perché le mie Autotorrette Non sparano Le sue hanno Già iniziato a sparare Le mie no Fail Ehm Grossi danni Mi sa che ci fa Mi sa che ci rompe Il culo L'unica cosa Che posso provare È provare a colpire Il punto debole Della nave Per fargli Tantissimo danno Le navi hanno Dei punti Hanno i punti Deboli Alla metà Del No Mi ha iniziato a sparare Anche quell'altro Non so quanto Resisterò Poco Questo E si Frena 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 Allora Adesso voi vi chiederete Perché ti sei fermato C'è il destroyer I siluri si possono lanciare Solamente Lateralmente Di lato Cioè insomma Quindi ho avuto paura Che mi avesse Già lanciato Dei siluri Intanto Abbiamo distrutto Il destroyer Adesso però Morirò Male anche Eh già Non ho molta speranza Non ho molta Diciamo Possibilità Di vita Morirò Poco Ma sicuro L'unica cosa che posso provare È fare Tipo delle Mosse evasive Anche se È lenta Girare Questa nave Devo cercare di Influenzare La sua La sua mira Cioè nel senso Lui mira in certi punti E io devo cercare Di prevedere Quei punti E muovermi In maniera strana Per evitare Di essere colpito Eh Lui online Mira a me Non mira agli altri Sa che se mira a me Fa punti Perché Perché naturalmente Più cose fai Più Più medagli ottieni Diciamo fra virgolette Medaglie Più punti fai E quindi più esperienza ottieni No Ha smesso di Ha smesso di spararmi Ottimo Ottimo Se mi allontano Se mi allontano abbastanza Posso farvi vedere Oh C'è il C'è il mio alleato Boh Intanto posso farvi vedere Anche il perk Prima di te Cosa fa questo perk Io rilascio Un aereo Che Mi fa Avere una visuale Molto Più dettagliata Della zona Posso sparare A una gettata massima Di 20 km Circa Quindi Quella nave Non mi può sfuggire Anche se io mi sono Allontanata da lei Ah si Femminile Beh Nava nave Quindi ci sta Vediamo i miei proiettili Dovrei averne colpito Con una Forse anche con due Ah Mi sono sopravvalutato Intanto però Se avete notato A parte che devo girare Prima di schiantarmi Prima di schiantarmi male Allora Noi stiamo conquistando La base Ma anche loro Stanno conquistando La nostra Un piccolo Quicquo qua E Non riesco a colpirlo Purtroppo A parte che È bello lontano Perciò È anche complicato Colpirlo Più di 20 km La gittata Guardate che bello Proprio tantissime Gittate Tanto ci sono Oh L'ho colpita finalmente Allora Continuiamo a colpire In questa direzione Oh Un siluro L'ha colpita Guardate quanto Fanno male i siluri Allora Dobbiamo distruggere Quella nave Perché finché Riesce a colpire Dei nostri alleati Nella base Cosa fa Abbassa La La roba di cattura E quindi Avantaggia Il loro Non vorrei dire Però mi sa Che abbiamo perso Questa Forse Forse no Ma dipende Da quello Che fa quella Ah Scusi Mi scusi Gioco C'è una piccola Sirena Che mi avvisa Che sono Sul Il limite Della mappa Oddio Però 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 Signori Non abbiamo Fatto granché Abbiamo solo Rubato una Kill E colpito 19 volte Però Abbiamo vinto Questa Partita E niente A quanto pare Ci ha rubato Tutto il tempo Questa partita Però Con dei Tagli Che farò In momenti Di silenzio E robe Verò Un video Un pochettino Più corto Del normale Però Vabbè Era solo Per introdurvi Il gioco Intanto Wow Abbiamo fatto Abbastanza esperienza Però E siamo Sontani A E Un pochettino